Musica Buongiorno e buona domenica a tutti voi cari amici e telespettatori. Oggi è 24 luglio e come di consueto iniziamo il nostro appuntamento con la rassegna stampa di Molise TV leggendo insieme le notizie del quotidiano online Tutto Molise. In risalto la sanità altri 70 milioni di euro serviranno per coprire il deficit sanitario regionale. La sanità infatti resta un problema per le casse regionali anche secondo quanto denunciato dalla Corte dei Conti. La delegazione regionale pentastellata invece si sofferma sulla mancata documentazione relativa alla struttura della fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso. E poi inchiesta Dirty Mayors, sindaci sporchi, misure cautelari sospese per gli imprenditori coinvolti. Nell'inchiesta della Guardia di Finanza coinvolti appunto 144 persone tra amministratori, funzionari pubblici e imprenditori. Nel taglio basso edilizia scolastica la denuncia da parte del Movimento 5 Stelle di Palazzo San Giorgio. Preseguiamo adesso il nostro appuntamento leggendo insieme le notizie del quotidiano del Molise. In risalto la cronaca. Falciato da un'auto muore 77enne. Cesare Barisciano è deceduto poche ore dopo il ricovero in ospedale. Insieme alla moglie era uscito per fare i quattro passi ma su Viale Manzoni a Campobasso è stato investito da un'auto. Nel taglio alto ancora cronaca, venerdì sera a Campobasso, imbraccia il fucile ad aria compressa e spara contro i migranti. Il giovane è stato denunciato dalla polizia per lesioni. È bambino di sei anni nascosto in una tenda, investito da un furgone e in prognosi riservata. Si trovava all'interno del tendone che i genitori, i commercianti e ambulanti stavano allestendo per la fiera quando all'improvviso è stato falciato da un camion. Ora è grave il tutto a Campomarino. E poi Pizzaiolo beccato con l'eroina scatta l'arresto. Il 32enne è ristretto agli arresti domiciliari. E poi lettera anonima, nuove minacce per Italo Testa. Ingiure ed offese per il leader del forum. Ancora sanità, debito e programmazione. Scoppia la polemica tra Iorio e Frattura. Si infiamma il dibattito in regione. Tradita la fiducia degli elettori, è attaccato Ioro ancora a Parli. È caricato di debiti le future generazioni. A risposto Frattura. Nel taglio basso, scuole, Movimento 5 Stelle, solo cemento in via Sant'Antonio dei Lazzari. Ancora a Campobasso, mette su spaccio di droga. Arrestato Ghanese. Il 31enne è arrestato dalla squadra mobile. Poi Termoli, violenta scazzottata. Discoteca chiusa per 5 giorni. Dopo la rissa esplosa. Lo scorso weekend. Passiamo adesso allo sport. Serie D. Campobasso nel pomeriggio parte il ritiro precampionato. Ancora Serie D. Esposito, pronto a dare il massimo per il lupo. Serie D. Olimpia. Agnionese. Sono ore decisive per Vincenzo Ricamato. E motori. A Ciarcia è tutto pronto per lo slalom. 42 piloti iscritti alla gara. Andiamo adesso avanti con le notizie di Primo Piano Molise. Anche in questo caso a centro pagina. La crona che è investito da un'auto mentre attraversa la strada muore 75enne. La vittima è Cesare Barisciani. L'uomo stava passeggiando con la moglie lungo via Le Manzoni a Campobasso. Trasportato al Cardarelli e deceduto poche ore dopo. Alla guida dell'utilitaria un ragazzo risultato negativo al test antidroga e anti-alcol. Nel taglio alto l'incidente a Campomarino. Bimbo di 6 anni travolto da un camion. Il piccolo trasferito a Pescara. E poi la seconda lettera minatoria al dottore Italo Testa. È in atto una guerra pesante. Isernia, pizzaiolo arrestato per spaccio dai carabinieri. Il 35enne gestisce un'attività in centro. Ancora nel taglio laterale. Campobasso, ubriaco, imbraccia il fucile e spara i migranti. Non vi sopporto più nei guai. Un quarantenne. Termoli, acque balneabili a sud del Sinarca. Confcommercio bassa con gli allarmismi. Ancora a Termoli scoppia una rissa in discoteca. Giovane picchiato a sangue. Sigilia locale per cinque giorni. Proseguiamo adesso con una notizia proveniente dall'Abruzzo. In particolare dalla zona di Vasto. Vertenza a canali. Fine delle trattative. L'annuncio del sindacato. L'azienda chiude. Vediamo adesso insieme le notizie sportive. Lupi, il ritiro scatta con la mente al ripescaggio. Presentati Esposito e Voltasio qui per fare bene. Domani giornata decisiva per la C. Mercato in fermento. L'Olimpia agnonese cerca quattro pedine. Di Meo ha chiesto due difensori. Un mediano e un bomber. E poi Abruzzo e Annone in vacanza con un chiodo fisso. Il driver vuole il primo storico successo in moto GP. Continuiamo con le notizie della Gazzetta del Molise. La prima pagina della Gazzetta del Molise titola Con frattura. Ancora copriamo i buchi sanitari di Iorio. Saldo mortale. L'Oscar del giorno è stato assegnato al consigliere del Movimento 5 Stelle del Comune di Campobasso, Simone Cretella, mentre il Tapiro ad Elio Madonna. Proseguiamo con la lettura delle pagine interne. A pagina 2 ancora soldi per coprire il deficit di Iorio. Focus. Il presidente Paolo Frattura parla dell'accesso alla liquidità straordinaria per la sanità. Sarò anche un architetto di campagna e un ragioniere. Ma Iorio ancora parla. E poi dieci anni a fare orecchie di mercante. L'ex senatore Giuseppe Astore sugli anni di gestione di Michele Iorio. A pagina 3 ancora la sanità. Un deficit cresciuto negli anni è diventato ingovernabile. Tutto a inizio nel 2000, quando il governo centrale smette di ripianare a piedi di lista i deficit regionali. Nel 2007 l'azzeramento di Prodi, ma in Molise la lancetta segna rosso. E' ancora il ragioniere Frattura e i conti che non tornano. E poi le minacce al dottor Italo Testa. Andiamo adesso avanti con le notizie di Agenzia Stampa Molise. Il presidente Espina, no ad allarmismi ingiustificati, la costa molisana presenta normali valori per la balneazione. E poi sanità, accesso a liquidità straordinaria e lago di Occhito. Per il rilancio si punti sui contratti di lago. E la cronaca Isernia Blitz antidroga dei carabinieri, gestore di una pizzeria arrestato per detenzione e spaccio di eroina. Ancora sanità, frattura, rettifica della rettifica, Maiorio ancora parla e poi Campobasso, la comunità di Elsi in particolare pronta per la fessa del grano in onore di Sant'Anna. E ancora Regione Molise, area di crisi complessa, tutele per i lavoratori. Dai quotidiani locali passiamo a quelli nazionali e vediamo insieme la prima pagina della Repubblica che titola Con il killer che odiava i ragazzi. Monaco, il 18enne tedesco iraniano, diceva di aver subito il bullismo. Nove vittime, otto tra i 14 e i 21 anni. Finto annuncio su Facebook per attirare più gente. Un culto, ormai i massacri. E poi Kabul strage ISIS nel corteo delle proteste. Nel taglio basso, Mr. Amazon, vi porterò nello spazio. Preseguiamo adesso il nostro appuntamento con le notizie del Fatto Quotidiano. A centro pagina 136, Pokémon ad Auschwitz. Oltraggio alla Shoah, Nintendo non risponde all'appello del museo. E poi la superclassifica degli stipendi RAI dà dall'orto a Marano a Leone. Sbriciolato il vincolo dei 240 mila euro. Nel taglio alto, Ali, la vendetta anti-bullying, il mito del nazi fascista. E sei mesi dopo l'assassinio di Regeni, l'Egitto continua a ignorare la procura di Roma. Continuiamo adesso con le notizie di Libero. In risalto, più immigrati, uguale più attentati. L'Italia non è ancora stata colpita perché gli islamici sono meno numerosi, ma soprattutto perché non regala la cittadinanza a chi nasce qui, così possiamo cacciarlo se sgarra. Peccato che la sinistra voglia introdurre lo Ius soli. L'equazione del terrore. Poi le vittime del tedesquale sette stranieri su nove. Radiografia di un ragazzo senza radici. Nel taglio basso, consiglio ai forze, ai taglioti delusi. Lasciate lavorare Parisi o morirete. L'eredità del CAV, il futuro del centrodestra. Vediamo adesso insieme le notizie della Gazzetta del Mezzogiorno. In risalto leggiamo terrore. L'Isis non va in vacanza. Il califato non c'entra con Monaco, ma firma la nuova strage di Kabul. Ottanta morti. Il killer della Baviera psicopatico è vittima dei bulli. La Germania resta sotto shock. E poi nel taglio basso Bari in 30 pestano un giovane albanese. Il tutto sul lungomare. Andiamo avanti con le notizie di avvenire. In risalto, chi piange per Kabul. Leggiamo il Daesh colpisce gli iscritti in piazza. Ottanta morti. A Monaco strage di un ragazzo disturbato. Tre kamikaze su un corteo di protesta della minoranza a Zara. In Germania nove giovani vittime. Forse è una vendetta per il bullismo. E poi cupola di trafficanti, di migranti e organi. Un libico a capo dell'organizzazione che specula sulla carne umana. Dalla cronaca allo sport. Vediamo insieme la prima pagina del Corriere dello Sport. Iguain è nata la Juve da Champions. Reggiamo nel taglio centrale. Visite a Madrid. Accordo con il giocatore Allegri allo squadrone per dominare. Un colpo da 150 milioni di euro. Il Napoli reagisce e si butta su Icardi. De Laurentiis prepara una mega offerta per l'argentino. Bacca l'alternativa. Tolisso è un passo. Ancora a sport. Vediamo insieme la prima pagina della Gazzetta Sportiva. E leggiamo Iguain Juve. We are the Champions. Pions Marotta decide di pagare la clausola di 90 milioni. Incontro a Madrid per i dettagli. È l'affare più caro di sempre tra italiane. Paolo Rossi con Dybala può fare la storia. Dopo Alves, Pjanic, Piaca e Benanzia anche il Pipita diventa bianconero. Bene, il nostro appuntamento termina qui. Grazie come sempre per l'attenzione. Io vi lascio al meteo. Vi do appuntamento alle prossime edizioni. Vi auguro una buona domenica. Arrivederci. Il meteo è offerto da Signora, dico a lei. Acconsegli assegni spendi e risparmi di Molise TV. Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV. E la famiglia torna a sorridere. Previsioni del tempo per domenica 24 luglio. La pressione cede parzialmente anche al sud, stante la discesa di correnti più fresche che spingeranno un blando fronte di annuvolamenti in transito da nord, nonché di locali fenomeni su Molise e zone interne della Basilicata. Temperature in diminuzione, specie nei valori massimi, ma vediamole nel dettaglio. Campobasso minima 20, massima 30 gradi. Isernia minima 19, massima 28 gradi. Termoli, temperature comprese tra i 24 e i 28 gradi. Il meteo è stato offerto da Signora, dico a lei. Acconseglie assegni spendi e risparmi di Molise TV. Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere.